Dai Mika, ecco, questo è il Mika medico, Mika farmacista, siamo in via Gramsci alla farmacia di via Gramsci Superquistone, attenzione, attenzione, Mika allora, per una domanda da, guarda di là, per una domanda da 15 milioni di dollari Guarda sempre qua Mika, per passare il tirocino Domanda per passare il tirocino, chi fa il primo turno? La plunale No, 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 di là, chi è che fa il primo turno? Tu La farmacia che fa il primo turno, devi sapere la memoria, se di uno viene qua Eccoli qua i nostri farmacisti, eh, eccoli qua i nostri farmacisti, e noi ci dovremmo fidare di loro Riferimento 8, qual è, dice, qual è, ti ho dato una mano Il riferimento 8 qual è, è la farmacia di Erla, San, 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 Ca, 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 Ca Che, che ha detto, ma chi ha detto? Ci parla Luca Laurente dai altra domanda un po' più tecnica sui farmaci come era la domanda di prima la domanda era ok gli dica gli dica di là in fondo sotto al portico neanche le indicazioni sa dargli il mica ha sbagliato pure la domanda su un negozio di pasta detto dal pubblico una cosa incredibile vai vai mica domanda tecnica quando accendi il computer ma no che programma c'è di gestione del farmaco lì come si chiama andiamo a vedere se è vero secondo me c'è imbrogliato ok poi vai prossima domanda quando accendi il computer che cosa si attiva come prima la memoria virtuale non è fisica l'antivirus o il boot o il criceto ti raccini il computer la cosa più importante questa no vediamo domani 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 l'antivirus l'antivirus è una delle ricerche vabbè hai fallito amica anche questa è una memoria fisica fagliato completamente errato come si forma una delle creme più banali del mondo parlami della preparazione galenica preparazione galenica dipende dal tipo un'antivirus e dai vai e dai dai ma una a piacere quella che ti ricordi meglio prendi il principio attivo lo micronizzi e come fai lo micronizzi vuol dire un mortaio lo micronizzi un mortaio e? così diventa aumenta il suo particle size quindi definisce le sue la taglia della ok è una torta a sbrisolono è una torta a sbrisolono bravo come si è la soluzione liquida oppure oppure se è una soluzione liquida è la sospensione è la sospensione se è orale perché viene presa per bocca se no se no se no se viene preso per via traversa è via traversa se non è traversa è falo no è ritornato il micalizzi di un tempo questo è su youtube amica saluta e dirti a tutti di venire alla farmacia comunale di via Gramsci comunale 2 2 incontrerete Stefano che sta facendo il tirocino solamente dal da oggi ai giorni dispari nei giorni imperiali che giorno è oggi 26 dal 26 aprile 2011 fino a 4 ottobre 4 ottobre quindi ragazze ragazze aspettatevi 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 da piccol che aspettatevi